Sul neutro di Notaresco si affrontano la certezza e la sorpresa del torneo. La forza della squadra di Epifani pronta a fare il salto in D e la pragmaticità dei ragazzi di Cifaldi che sognano gli spareggi di Play. Prima frazione di gioco che dà il meglio di sé ad apertura di Contesa, Ponte Vomano pericoloso tra il sesto e il settimo in due occasioni. Prima con Touret che si propone al tiro finito sull'out destro del pale di Mascolo e poi con Marini che ruba palla, va al tiro sventato da Mascolo in maniera provvidenziale con una mano. La replica rosso-blu è tutta sulla testa di Brunetti che raccoglie una palla d'angolo che termina fuori di poco. Poi le squadre si prendono le misure per vedere un'azione degna di nota. Bisogna attendere la mezz'ora quando su azione insistita rosso-blu Sarrizzo cerca l'assist ma Ragozzo lo chiude in angolo. In chiusura di tempo calcio franco. Massetti tocca per Corticchia, Modesti è presente. Si va al riposo con le reti inviolate e si ripresenta la ripresa con la grande opportunità per i padroni di casa che all'ottava confezionano una palla goal per Faenza che bacia a pieno la traversa e con Touret che viene rimpallato. Le occasioni per l'Aquila vengono dai calci piazzati. La capucciata di Cassese al quarto d'ora si perde orte il segno attraverso al trentottesimo la difesa. Ospite si fa sorprendere dal direttore di gara che comanda un calcio a due in area. Pullman davanti la porta che Wally riesce ad aggirare per poi trovare Mascolo che si riscatta. Al quarantaduesimo cross dalla destra con Riccardo Di Stefano che si rifugia in angolo pressato da Marchionni fino all'ultimo istante ed assalto in pieno recupero che non dà i frutti e sancisce lo 0-0 finale. Alla fine un passo ciascuno per i rispettivi obiettivi, una gara in mano per l'Aquila verso la Serie D e il Pontevomano verso i play di promozione. Un punto forse con un pochettino di rammarico, non per essere presuntuosi. È chiaro che il pareggio è giusto, però siamo stati bravi oggi. Abbiamo avuto un paio di occasioni importanti. Parlo della traversa presa, della punizione a due che non abbiamo sfruttato e considerando la differenza tra le squadre di potenziale sono non soddisfatto di più dei miei ragazzi. Gli faccio grossi complimenti perché se la sono giocati alla pari con un'Aquila che sta sfaltando un campionato. I ragazzi hanno fatto quello che andava fatto. Noi non dovevamo fare questo tipo di partita, non abbiamo avuto timori reverenziali, abbiamo cercato di fare gioco come cerchiamo sempre. Quindi poi è chiaro che il risultato dipende dagli episodi. Chiaramente noi forse in due occasioni, ripeto, forse quello della traversa, potevamo concretizzare. Se concretizzavamo era un'altra partita. Il bicchiere è tutto pieno perché oggi di pareggiare e poi ha pareggiato anche Giulianova ci avvicina sempre di più alla Serie D. Oggi l'avevo detto ieri che era una partita difficile. Loro è una squadra che ci ha dato sempre fastidio anche oggi. Quindi è un punto che ha grande valore perché poi mancano cinque partite, abbiamo dieci punti di vantaggio. Domenica giochiamo in casa e sarà una partita determinante per noi e quindi siamo contenti per come è l'andamento della gara perché giocare contro i loro è dura anche se è stata una bella partita. Poi il campo l'ha reso anche in questa maniera e ci ha penalizzato un pochettino però non è una scusante. Però l'importante oggi è togliere un'altra partita e avvicinarsi alla Serie D che è la cosa più importante. Spettacolari, sono stati fenomenali oggi perché hanno cantato la prima e l'ultimo minuto ma anche che è venuta a vedere la partita. Hanno capito il momento del campionato, hanno capito il momento oggi di sofferenza perché bisogna dar merito anche agli avversari quando si soffre un pochettino però si vincono i campionati anche con queste partite con capabilità, con voglia di portare a casa il risultato e di questo ne siamo contenti. L'obiettivo nostro è l'AD, ci siamo vicini, siamo contenti e adesso ci manca l'ultimo sforzo per arrivarci.